Lunedì mattina nell'auditorium del Palazzo di Giustizia è stata inaugurata la nuova biblioteca giuridica multimediale intitolata Girolamo Tartaglione, magistrato napoletano che nel 1978 fu ucciso a Roma dalle Brigate Rosse. Il presidente della Corte d'Appello Antonio Buonaiuto ha sottolineato l'importanza di un fruttuoso impiego delle tecnologie informatiche per l'efficienza dell'azione giudiziaria. Nel corso della cerimonia è stata annunciata l'apertura del nuovo sito internet della Corte d'Appello. E sul primato della legalità insiste il sindaco De Magistris evocando la figura di quegli uomini che in difesa della verità e della giustizia hanno sacrificato la propria esistenza, come appunto Tartaglione e come il giornalista Giancarlo Siani, ucciso nel 1985 dalla Camorra. A Siani il prossimo 26 novembre sarà intitolata una piazza al vomero.